Allora io mi chiedo, siccome come diceva giustamente il giornalista è il Sole 24 Ore, non si capisce questa spending review quale sia, perché questo è il vero nodo, ma io mi chiedo, tutti questi soldi, anche per avviare un processo di riforma delle pensioni, cosa che noi auspichiamo, e siamo disposti a votare anche il provvedimento del PD pur di fare la riforma sulle pensioni, io mi chiedo dove sono? Perché fino a che non avremo questo dato, noi non potremmo considerare valide le proposte barra.